Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Noi siamo di Split4Screen Io sono Shanelos e in compagnia mia c'è Erfaron E Alcarin Benissimo Vabbene ora scegliamo le squadre con Alcarin Che Che Cosa scegliamo Alcarin Io sceglio Ma c'è ci sono pochissime squadre Io sceglio Io sceglio Allora Erfaron e Alcarin giocheranno la partita mentre io commenterò Premessa a me fa schifo il calcio Quindi E a chi se ne è forse E beh è vero Ma a me nemmeno frega Però magari a chi piace Sentire bene i nomi Alcarin Scegli la squadra per favore Beh magari no Uno vuole sentirsi dire bene i nomi dei giocatori Però io non conosco nessun giocatore Quindi a seconda di come lo leggo Non leggo male perché non me ne frega nulla Se a voi ragazzi che sentite i video mi piace non me ne fregano Perfetto Capito Ecco le premesse Le premesse sono stupende Allora Allora Io vorrei capire chi è Barcellona Allora Io sono Barcellona Allora E Alcarin Vabbè Alcarin e Nabo Quindi prende la squadra più forte Allora Ma E fanno una Borussia Dortmund Non è che male Allora da quel poco che so su calcio So che Barcellona è la squadra di Dio No Non è la squadra di Dio È solo la squadra più forte È perché tu sai L'unica squadra che sai sono queste È Barcellona È Real Madrid No Per fare un gol è bellissimo Sì ma comunque Sì ma comunque sottolineiamo che Da quanto ne so io Il Barcellona è la squadra più forte di Dio Attenzio Attenzio Compagnero Guardate Guardate I tentativi di Eiffaro Sono proprio omicidiali Alcani si sbatte là Fa poco Coso Qui come Cristo Sia è come Ecco Ecce Ecco Ecce Diciamo i nomi che conosciamo Allora Messi ti porti in avanti Madonna che è lento Alcarin proprio si sbatte Fa lì Cerca di Eh vabbè ma Messi contro tutto Non può andare Anche se Oddio So che il giocatore è abbastanza forte Messi se non è più forte Ok Alcarin Usa Fattacchetti Usa 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 Allora è corretto dire usare Perché io sto usando Il controller Alcarin fu bravo Fu bravo Battuti Un battuto di Eiffaro Perfetto Ammiriamo Attenzione Ammiriamo Contrapiede vicidiale Allora Gundogan Certamente Gundogan Gastro Lo passa Contrapiede Lo passa Gastro Oddio che massa Madonna Ma problemi di stomaco Quel giocatore di prima che ho letto Qualcun Perché è gastro Gastro intestinale Questa forse si taglia Però vabbè era bellina dai A coso Ying e Yang perde la palla Yang Vabbè c'è Yang però Quindi Ying e Yang Lo chiamiamo Ying e Yang per comodità Poi Piscezzo Piscezzo Oh cazzo Oddio Hai visto la faccia Iniesta Suarez Si porta in avanti Alcarin si sbatte La e perde subito la palla Perché è incompetente Hummles Hummles Perde la palla Ho sbagliatato Ho sbagliatato Ho sbagliatato Ho sbagliatato L'italiano L'italiano Corregiuto Signori In questa partita E' lo meglio dell'altro C'è 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 Reus Poi c'è Il nome di una caramella tedesca Poi Perché è una caramella tedesca E' Schussweig Come cazzo sta scritto Brutti sti nomi proprio Chi dirà Ma che merda è Ma che Ma di che paesi Sono sta gente Uuuu Per tentativi Ma di che paesi Sono sta gente Che sta usando Eferon Allora Maggio parte La Germania Sono tutti dei discos La nonna Ah ecco perché Non mi sono difficile Ora si spiega tutto quanto Ecco allora Alcar intenta Passa il giocatore Vai 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 con Alves Alves la passa Suarez Attenzione Suarez Si porti in avanti Mamma mia che schifo Suarez si passa in avanti Uuuu Fa trucchetti La si sbatte Passa un qualcuno E qualcuno Qualcuno la perde Perché è un fallito No No è un fallito Te lo dico io Te lo dico io È un fallito Basta Ma si tenta Ma niente da fare Messi incompetente Prova E che cosa sta Cosa fa Dovevi provare un giro Un calcio d'angolo Si Un calcio d'angolo Alcar intenta Continua a tentare Buschezza Fa una testata E E Bucchi No c'è No c'è No c'è No c'è C'è Oddio Oddio Che cos'è Cosa c'era scritto Bucchi o rucchi Burchi Mamma mia Mamma mia Bellissimo Allora raga Usate troppi giocatori Usatemelo giocatori Così li leggo tutti Così li leggo tutti Con calma E l'insulto un po' Perché hanno dei nomi di merda Alc ok Incomincia il secondo tempo Perfetto Oh Alcar si fa vedere Si fa sentire Con Messi La si sbatte col pallone Anche se è restato sempre lì Inutilmente Ok Ying e Yang In processo della palla Poi la perde Poi la riprende La riprende La riprende La riprende Perché purtroppo Alcar non sa tenersi la palla Poi Reus Passa a qualcuno Perché cosa sta succedendo Che è sta roba È un calcio di pulizia Si era messo a 90 Averturei secondi Perché È un calcio di pulizia Ma è necessario mettersi a 90 Per un calcio di pulizia Si Ringrazio l'abitro Quanto è gay questa cosa Allora Spazmer passa a A qualcuno A Ying e Yang A Ying e Yang A Ying e Yang Che corre Va si sbatte Oh scatta 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 Quella che si trova Ma la bruciata Da me Da un buon tentatista Wow Wow Ok ammetto Questo è culo Vero Fu sempre un buon Allora Chi ha segnato Chi ha segnato Voglio leggere Il nome di chi ha segnato Mkhitaryan Ah Mkhitaryan Ok Alcari non parli Alcari non parli Perché stai perdendo Alcari No Alcari mi dicono che stai perdendo State parlando Allora Allora Dovete sapere Che quel po' di Alcari 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 mi piace Usare solo un giocatore Sbattersi Si sbatte Ma resta sempre là E non confunde Poi lui Oh 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 Io Commenterò Commenterò questa cosa Dicendo che mia nonna Tira più forte Certamente Cioè Me hai fatto fare Una brutta figurella A Messi Sincero Messi Messi Non posso darlo in mano a te Una cosa è certa Cioè tu ti sbatti con Messi Oddio Cioè Allora Chiariamo Da quanto so Messi è uno dei giocatori più forti Se non il migliore Io vorrei sapere Come si fa ad essere così incompetenti Con il giocatore più forte Faccelo sapere Eh Devi essere Alcari Devi essere Alcari Ok Certamente Ok Ti ha segnato Si leggiamo il nome di questa cosa Meciferiano Oh Doppietta Doppietta Proprio doppietta Che bucchia Doppietta Che lo stesso Che lo stesso Che lo stesso Scusate l'ignoranza Io odio il calcio Quindi Ovviamente Quando odio una cosa Non vuoi sapere nulla Di quella cosa Oh Oh Alcari Alcari Suarez Io scherzavo Alcari Guardate 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 Alcari Io scherzavo Alcari Alcari Si fa sentire Oddio Ma che Messi Messi non sa giocare Non sa Cioè tu hai Messi E non sa giocare Certamente C'è gente che non sa giocare Messi fa cose Passa nei mari Buschez si sbatte E fa Ma perde la palla Come al solito Ok Arriva Buschez Che la passa a Suarez Che Buschez Però Si scatta la gente Ma perde la palla Come al solito Niente da fare Alcari Non si sa tenere la palla Signori No E' brutto Se ti cadono le palle Immagina che le palle ti cadono all'improvviso Tutto Chanel Io devo commentare la partita Voi state giocando Io volete a me Voi volevate che commentassi Io commento No Non sarà un commento Eh ora vogliamo restare zitto No sarà un commento Lasciare il resto Io continuo a commentare Allora Quello che è il problema È il gastrointestinale Sparito Adesso c'è Ah quello lì che ha fatto La cosiddetta doppietta Che perde la palla Perché perde la palla Poi ci sta Piché 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 voleva Diciamo che voleva Piché Poi questo nome strano Perde la palla Eh Si scontrano Si spingono Non lo fanno Ok Eh Gudogan Vuoi fare un bale Di violenza Gudogan Gudogan Perde la palla Di violenza Piché Piché Gastro Piché dove Quello che è il problema I gastrointestinali Perde la palla E niente da fare Oh no Suarez Io ripeto Sta perdendo La squadra più forte Di questo gioco Allora Suarez Guardate Suarez Che passa La palla Da Alba A Jessica Alba E' vero però Alba però C'era la J All'inizio Puntata Quindi potrebbe Veramente essere Jessica Alba E' Giordi Alba Eh vabbè Ma potrebbe Essere diventato L'improvviso Un travestito Che ne sai tu E vinci Vai più Campionato Do Brasil Erfaron Erfaron E quindi ragazzi Chiudiamo questo video Così Con la sconfitta Di Alcarin Alcarin Vuoi dire qualcosa Alcarin No Anche se ne ho fallito Ciao a tutti Al prossimo video ragazzi Ciao 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 Che partita di mer Ciao a tutti Ciao a tutti